ciao a tutti bentornati sul canale traduzione canzone e canzone spiegate e bentrovati a coloro che guardano il video per la prima volta in questa puntata andiamo a rianalizzare un'altra canzone di david bowie con una delle sue più famose una delle sue più iconiche che si intitola heroes e una canzone che ha molte interpretazioni potrebbero potrebbe avere molti significati ma noi andiamo ad a spiegare quello che è stato confermato sia dal cantante che dal produttore e poi scopriamo perché e diciamo che questa canzone è stata scritta alla fine degli anni 80 in un periodo in cui david viveva a los angeles prima e poi si è trasferito a berlino per cercare di rinascere perché los angeles comunque è comunque la la città del delle dei peccati non solo degli angeli e quindi ha cercato trasferendosi a berlino di ritrovare la sua la sua strada sia diciamo a livello professionale che a livello proprio mentale e fisico perché addirittura i suoi amici elton john e john lennon lo avevano dato per morto quindi ha cercato di dare una svolta nella sua vita e ci è riuscito perché perché a berlino appunto ha scritto il nuovo album insieme a toni visconti il produttore e la canzone appunto nasce perché david bowie mentre era affacciato dagli studi di registrazione che davano sul muro di berlino ha visto questo toni visconti produttore che si abbracciava con la corista il problema era che toni visconti era sposato e e quindi erano amanti praticamente stavano stavano facendo gli amanti e qui e quindi qui david bowie ha sognato diciamo ha immaginato una qualsiasi coppia gli ha dato l'ispirazione a una coppia di amanti e anche lì si è messo in mezzo lui una coppia di amanti il quale uno il maschio il ragazzo ipotetico aveva problemi di droga e di alcol aveva problemi a livello proprio eeeh a livello mentale fisico psicologico e anche la sua ragazza quindi una coppia problematica e quindi questi due ragazzi stavano a fianco al muro di berlino e si stavano baciando qui parliamo del 77 quindi nel diciamo nella nel periodo storico della guerra fredda e quindi mentre loro si baciavano accanto al muro di berlino e c'erano delle pistole che sparavano sopra di loro e però loro baciandosi diciamo amandosi sapevano che niente sarebbe potuto accadere e quindi diciamo che era una parabola dell'amore in cui loro appunto dovevano stare insieme e e quindi non erano loro i sbagliati non erano loro anche se erano amanti non erano loro sbagliati mai sbagliati erano quelli dall'altra parte quelli che cercavano la guerra cercavano appunto di di sopraffare l'altro e quindi questa è una è la chiave di lettura che è stata confermata sia da David Bowie che da Tony Visconti quindi qua non ci sbagliamo mentre anche hanno detto che il wall non fa parte del muro di berlino e quindi ma prendiamo come buona la prima perché è stata confermata dai protagonisti quindi come abbiamo detto è stata scritta il 23 settembre del 1977 e stiamo parlando appunto di una delle composizioni più celebri appunto di David scritta in un periodo in cui era in crisi viveva a los angeles distrutto della cocaina e dall'alcol tanto che i suoi amici Elton John e John Lennon pensavano che fosse prossimo alla morte fino a quando David si trasferì a Berlino e iniziò la sua risalita professionale e umana tutt'altro che hit da classifica infatti non vendette molto in quel periodo era nelle classifiche non era una hit diciamo tutt'altro che hit da classifica Heroes è l'amalgama d'oro di potenza sonora melodia e lyrics il paradigma della canzone perfetta è indimenticabile due giovani amanti che si trovano di nascosto sotto il muro di Berlino sognando di poter respirare insieme la libertà perché loro potrebbero essere eroi soltanto per un giorno ma eroi non nella 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 diciamo nella società ma eroi tra di loro perché si amavano e quindi potevano essere dei dei anche anche loro lei e la regina di loro stessi non non rapportati alla alla società esterna quindi Heroes è il grido disperato dell'ultimo romantico sulla terra in un mondo ormai distrutto dal mondo ormai distrutto David implora alla sua ragazza di non andarsene e di non scegliere strade più semplici perché come dice possiamo essere eroi solo per un giorno lo sfondo di Heroes è il muro di Berlino ostacolo fra due amanti simbolo della guerra fredda le virgolette presenti nel titolo volutamente inserite furono aggiunte per dare un tono ironico al concetto di eroe che altrimenti sarebbe stato troppo romantico il produttore Tony Visconti viene accreditato per aver fornito l'isplicazione per le immagini del testo che si riferisce a due amanti che si baciano by the wall sotto il muro di Berlino quando lui e la corista si abbracciavano davanti a Bowie stando di fronte alla finestra degli Hansa studio che si affacciava proprio sul muro all'epoca Bowie disse che i due amanti erano una coppia immaginaria ma appunto diciamo proteggere l'amico ma Visconti che era allora sposato con Mary Hopkin confessò che Bowie stava proteggendo la scappadella e poi confermò tutto nel 2003 e quindi fino a qua non ci piove e niente quindi questa è una spiegazione della della canzone e cioè diciamo una spiegazione di come è nato il testo e adesso possiamo andare ad analizzare appunto le strofe parola per parola che appunto inizia dicendo facciamo prima la prima strofa I will be king and you you will be queen though nothing will drive them away we can beat them just for one day we can be heroes just for one day quindi il futuro io sarò il re e tu tu sarai la regina do vuol dire sebbene benché anche se quindi niente niente li porterà li porterà via we can beat them just for one day li possiamo battere solo per un giorno noi possiamo essere we can be heroes noi possiamo essere eroi just for one day possiamo essere eroi solo per un giorno quindi la prima strofa parla di una prima persona rivolgendosi alla donna amata le dice che insieme potranno combattere i propri nemici che potrebbe essere nemici della vita di qualsiasi entità e coloro che così come il muro di berlino vuole dividerli pur non essendo niente per il mondo intero i due si sentono re e regina quando sono insieme loro si sentono e sono eroi forse anche per un solo giorno ma tanto basta per sconfiggere per sempre chi li vorrebbe divisi e quindi questa è la prima strofa la seconda dice and you you can be mean and I I'll drink all the time because we are lovers and that is a fact yes we are lovers and that is that quindi e tu allora mean vuol dire meschino avaro cattivo quindi tu tu puoi essere cattiva and I I'll drink all the time e quindi e io potrò bere berrò tutto il giorno because we are lovers and that is fact perché noi siamo amanti e questo è il fatto and that is a fact e questo è un dato di fatto yes we are lovers and that is that sì noi siamo amanti e quindi questo è basta quindi nella seconda strofa se nella prima strofa si apre con io la seconda descrive lei che appare in grado di compensare le debolezze del protagonista con il suo cinismo quindi con il suo carattere forte lui infatti è dedito al bere il che potrebbe essere una nota autobiografica e autocritica che in quel periodo derivava in quel periodo cercava di combattere le proprie dipendenze da alcol e droghe dopo tutto sono amanti e due che si amano si compensano la vicenda poi andiamo avanti though nothing will keep us together we could steal time just for one day we can be heroes forever and ever what do you say? allora quindi though nothing will keep us together quindi anche se niente ci terrà insieme we could steal time just for one day noi potremmo rubare del tempo soltanto per un giorno we can be heroes forever and ever noi possiamo essere eroi solo per un giorno o per sempre no scusa per eternità what do you say? cosa ne pensi? I wish you could swim like the dolphin like dolphin can swim though nothing will keep us together we can beat them forever and ever oh we can be heroes just for one day we can beat us just for one day in questa trofa dice che io vorrei che tu potessi nuotare che tu sapessi nuotare potresti nuotare like the dolphin come i delfini possono nuotare nell'oceano do nothing nothing will keep us together sebbene niente niente potrà ci terrà uniti we can beat them forever and ever noi possiamo batterli loro i nemici per sempre nell'eternità oh we can be heroes just for one e noi potremmo possiamo essere eroi soltanto per un giorno we can be us just for one noi possiamo essere noi soltanto per un giorno e quindi questa è la terza strofa che dice appunto con la forza dell'immaginazione alimentata dai suoi sentimenti lui cerca di convincerla a non andare via a non cedere al grigiore del mondo reale che inquina i sentimenti e le emozioni le confessa i suoi pensieri in cui la immagina nuotare libera come un delfino negli oceani quindi è regolare I can remember standing by the wall and the guns shot above our heads our head over our heads and we kissed as though nothing could fall and the shame was on the other side quindi io posso ricordare riesco a ricordare standing to stand vuol dire stare in piedi posso ricordare quando stavamo diciamo mentre eravamo a fianco al muro and the guns e le pistole le fucili shot è il passato di to shoot to shoot è il passato di to shoot che vuol dire sparare above sopra our head quindi al di sopra delle nostre teste and we kissed as though nothing could fall e noi ci baciavamo come se niente potesse accaderci and the shame was on the other side the shame è la vergogna quindi e la vergogna non era nostra che eravamo amanti ma apparteneva agli altri che volevano lottare che volevano combattere che volevano dividere ecco questo penso che sia giusto e poi finisce dicendo appunto abbiamo detto nel bridge della canzone arriva il riferimento alla scena alla scena del bacio qui Bowie canta mi ricordo quando ce ne stavamo approggiati il muro e i proiettili volavano sopra le nostre teste ma noi ci baciavamo come se nulla fosse queste frasi queste frasi cantate sono intervallate da cori che ripetono ogni singola affermazione rafforzando il concetto espresso dalla voce principale quindi finisce dicendo oh we can beat them beat them forever and there noi possiamo batterli soltanto per un giorno we are nothing and nothing will help us noi siamo niente e niente ci aiuterà maybe we are lying then you better not stay quindi lying vuol dire mentire quindi potremmo mentire forse stiamo mentendo quindi meglio non restare but we could be safer just for quindi noi potremmo essere più sicuri soltanto per un giorno e quindi questa è la traduzione della canzone che è il significato di base appunto è che la forza dell'amore può cancellare le nefandezze e le violenze dell'uomo a ribadire il concetto l'ultima frase del bridge che poi esplode in un nuovo ritornello afferma che afferma che la vergogna e shame sa dall'altra parte non sono i due amanti a doversi vergognare non sono loro quelli sbagliati in questa storia ecco questa traduzione secondo me importante di uno dei capolavori della storia della musica mondiale che è rimasta appunto intatta fino ad oggi è stata una colonna sonora di molti prodotti è stata cantata coverizzata da tantissimi cantanti e quindi è una canzone importantissima che chi ama la musica deve conoscere il significato e le parole e ciò di cui parla questo grande artista che è David Bowie quindi se vi è piaciuto il video vi invito a iscrivervi al canale traduzione canzone e canzone spiegate e mettere anche un mi piace per continuare insieme questo percorso di traduzione di canzoni in questo caso inglese ma anche in altre lingue e anche in italiano per capire il significato che ha spinto questi grandi artisti a scrivere questi grandi capolavori che hanno fatto la storia della nostra società la società contemporanea e la società passata quindi questo è il mio percorso di di appunto capire le canzoni capire il significato e imparare anche nuove lingue quindi questo è il mio è il mio obiettivo ecco quindi ragazzi che dire mettete la manetta perché questa anche è una canzone che può essere pompata a manetta con il significato che adesso abbiamo capito insieme quindi vi invito ad ascoltarla attentamente il capolavoro Heroes di David Bowie da il momento è tutto alla prossima ciao